Noi vogliono semplicemente permettere ai partiti politici gli stessi che hanno distrutto questo paese di eleggersi il 70% dei deputati alla Camera e il 100% dei senatori pescandoli tra i consiglieri regionali che sono di norma i politici più corrotti d'Italia garantendoli l'immunità. Noi diciamo no. Come è stato di buono spigio? Aspettate un attimo eh! Ilmaio! 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 C'è pure forza con la patata! Aspettate una buona rivolta, lo dobbiamo nel Senato! Allora disciplinati che siamo fuori! Ilmaio! 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 Presidente! Disciplinare! Disciplinare! Ora! Stasera venite tutti in giugno? Perfetto! Buonasera e ciao a tutti! Grande! Gigi! 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 Non vi inventate sorpassi azzardati! Imbiti di velocità rispettati! Non ci parlate di interrogazioni parlamentari mentre stiamo andando! e se non si è bene! Capito? Ora foto queste robe e dobbiamo purtroppo andare! Ora, mi raccomando, grazie a tutti, ci si vede, ci diamo partito. Oh, si saluta, dai, veloce, veloce, perché ragazzi...